non ci resta più molto tempo un ringraziamento a Luca Marchegiani come sempre il mio piano grazie a te Fabio sto a fare video no Nello non ti sento voi sentite Nello prima si sentiva oh mi ha scritto vabbè sto a fare video aspetta no Nello ah ok eh ma noi non te sentimo né non te sente nessuno e provare a riabilitare tutti invece forse è quello ok grazie a tutti